Il lavoro di questa strada è il lavoro che si sta facendo ogni giorno, grazie al ministro e a tutti i ragazzi che si stanno concentrando a fare questi movimenti, a tenere questi ritmi. Speriamo di continuare così e non mollare. Il giro col suo più di in queste due partite è il dato migliore? Sì, si sta lavorando tutti i giorni con la difesa, si sta migliorando ogni giorno in più, speriamo di continuare così, di migliorare ancora di più e non prendere mai gol. Questo modulo ti esalta, l'abbiamo visto molto spesso alternarti con Calleon sulla destra. In questo modo è fatto così, perché se giochi a tre devi dare ancora più spinta con i terzini, con gli interni, quindi con Calleon mi trovo bene, sappiamo già i movimenti da fare e si sta andando bene. Ecco, ora bisogna dare continuità ai risultati, mercoledì si torna subito in campo, trasferta contro il Carpi e poi sabato una partita attesissima contro la Juve qui al San Paolo. Sì, si deve stare attenti a non esaltarsi troppo, stare con la testa giù, pensare che non abbiamo ancora preso i punti, stare sempre al pezzo, allenarci e pensare quando andiamo in campo che dobbiamo riconquistare per forza i tre punti. Destra-sinistra non fa differenza, mister Sari ti manda sempre in campo. A me non è il problema di destra-sinistra, è il problema che se si fa bene così come si sta facendo tutto il gruppo, giochi bene sia a sinistra sia a destra.